Mundo reale o mondo digitale? Online ci sentiamo liberi di esprimerci. E un commento non può far male a nessuno. È solo un commento. Eppure il 52% di chi subisce cyberbullismo si infligge dolore fisico fino a meditare il suicidio. Fatto molto reale. L'amore online è una finzione. Eppure una coppia su tre nasce online. Alcuni hanno poi costruito una famiglia, la propria vita. Oggi online ci lavoriamo, ci giochiamo, ci conosciamo. Oggi il 20% dei giovani non possiede un pc o un tablet. Sono esclusi. Sono isolati. Non possiedono un canale per socializzare con i propri coetanei. Che ci piaccia o no, siamo nell'epoca della tecnologia. E imparare ad usare lo smartphone viene più naturale che imparare ad andare in bicicletta, già in tenera età. Che differenza c'è tra ciò che riteniamo reale e ciò che è digitale? Forse nessuna. Mi spiego meglio. Se solo per un istante mettessimo tutti da parte l'idea che il digitale sia social, chat, internet, smartphone, e ci soffermassimo su ciò che rimane. L'esperienza umana. Insomma, come vi sentite quando subite o spedite un insulto aggressivo? Cosa vi rimane quando chiudete una conversazione via chat con qualcuno? Rimangono le emozioni. E quelle non sono digitali. Quelle sono molto reali online e offline. Possiamo dire quindi che il mondo digitale è un'estensione del mondo reale, che ha un enorme impatto sulle persone. E aggiungo forse, sui più giovani che fanno di internet il proprio diario personale, questo impatto è anche amplificato. Eppure spesso assumiamo degli atteggiamenti online che normalmente eviteremo. Torno al confronto con il bambino che impara per la prima volta ad andare in bicicletta. Prima con le rotelle, poi senza, poi il genitore tiene il sellino, qui addirittura i genitori sono due ad aiutare il bambino a stare in equilibrio. Il bambino che invece per la prima volta impara ad usare lo smartphone non ha rotelle, ma soprattutto non ha nessuno a tenere il sellino prima che sia pronto a mantenersi in equilibrio. Sì, perché per stare in equilibrio dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere educati. Ma chi ci ha educato al digitale? Se ci pensate, nessuno ci ha dato una bicicletta con le rotelle, eppure oggi ci muoviamo su motocross con completa naturalezza. Fa parte della nostra vita, fa parte della vita di tutti. Questo disallineamento di conoscenza non ci ha permesso di maturare un'adeguata consapevolezza di ciò che è il mondo digitale. E non si è fermata qui. Oggi la transizione digitale, domani il metaverso. Questo gap lo chiamiamo divario digitale, o digital divide. E impatta diverse sfere della vita di ognuno di noi, presente e futura. Non avendo qualcuno che ci guidi, e che ci accompagni nel processo di digitalizzazione, ci sentiamo soli. Tutto ciò ha delle conseguenze. Conseguenze che per me sono sempre state molto chiare. Quel senso di confusione. Quella rabbia che non si può esprimere perché di fatto non sai chi ti sta attaccando e perché. Quel senso di impotenza nel riuscire a proteggersi e a proteggere chi c'è caro. Io queste sensazioni le conosco molto bene. Hanno fatto parte della mia adolescenza. Conversazioni e momenti che ritenevo privati a disposizione di tutti. Ricevere per mesi messaggi di odio e talvolta minacce di morte da completi sconosciuti. Convinti di sapere, di essere in diritto, di sentenziare sulla base di voci distorte, pilotate e ricondivise su chat e gruppi di centinaia e centinaia di utenti. Anzi persone. Le stesse pronte ad aggredire persone a me care, la cui unica loro colpa era proprio quella di essermi amiche. Ma del resto so anche molto bene che lo stesso tetromondo digitale, se utilizzato con coscienza, può essere fonte di opportunità. Opportunità che determinano la vita delle persone. Se oggi sono qui, se so cosa significhi innamorarsi, avere persone su cui poter contare, ottenere un lavoro con cui mantenersi, è proprio grazie allo stesso digitale. Non molto tempo fa mi sono chiesto se fosse possibile fare qualcosa per fare meglio. La verità? Parlare di Digital Divide in Italia risulta alienante. E allora mi sono detto, se non io, chi? Nel 2019 nasce un'idea, l'associazione No Profit in lotta con il Digital Divide. In questi ultimi tre anni mi sono impegnato a coltivare una community di volontari per la realizzazione di progetti con la finalità di diffondere consapevolezza di ciò che è il mondo digitale. Oggi siamo circa 40 in tutta Italia. Siamo persone di ogni genere, età e settore di competenza, dai più tecnici ai più umanistici. Essere parte di un'idea significa conoscere i reali valori dell'umanità. Proprio grazie ad un'idea ho imparato che la solidarietà esiste ed è spontanea. Ho visto giovani adolescenti passare pomeriggi divertendosi e imparando ad aggiustare PC da poi donare a loro coetanei meno fortunati. Un'idea mi ha anche insegnato che il gap generazionale è un limite di comunicazione, non di età. Ho visto un quarantenne, un diciannovenne aprirsi all'ascolto, scambiarsi esperienze e punti di vista e proprio da qui è nato un incontro con 1500 studenti in tema privacy online. Ora immaginate tutti voi di avere un luogo e un momento in cui potervi scambiare competenze, opinioni ed esperienze. Lo fate dopo il lavoro, lo fate dopo lo studio o lo fate nel weekend, ma soprattutto lo fate con un obiettivo comune. Investire il proprio tempo prezioso per fare del bene. Perché veramente chiunque può contribuire a rendere migliore il mondo digitale. E i nostri meravigliosi volontari già lo stanno facendo. Se tre anni fa mi aveste raccontato di un'idea, vi avrei detto che ci sarebbero stati millemila difetti, che non avrebbe potuto funzionare, che sarebbe stato impossibile. Eppure, eccomi qui. La verità è che un'idea tramite tutti coloro che hanno deciso di farne parte mi ha cambiato. Abbiamo deciso di crederci insieme. E oggi ho qualcosa che tre anni fa non avevo. Ho speranza. Ho speranza che si possa vivere meglio online. Dovremmo solo ricordarci più spesso di chi è composto. Le umane persone. All'inizio ho fatto una domanda. Noi di un'idea abbiamo voluto provare a dare una risposta di cui ne abbiamo fatto un motto. Yes digital, but human. Grazie.